E' l'istante che vorresti non finisse mai, è quel vivere un momento unico che rende la tua vita magica. Avviene fuori dal teatro, ma avviene spesso anche dentro il teatro, l'unione tra vita e arte. Grazie anche per questo messaggio. Un altro, sono uno più bello dell'altro, quindi non sono finti, vedete che ognuno ha una grafia diversa. Che cos'è la meraviglia? Vedere un parco giochi alla fine di un percorso di montagna. Effettivamente, la scrittura è di un bambino, quindi questa è la meraviglia per un bimbo. La meraviglia è la bellezza del creato che si rivela inaspettata. Torna la natura dell'improvviso, del qualcosa che accade di colpo senza che ce l'aspettiamo. La meraviglia è la pazienza degli onesti, e ne hanno tanta gli onesti di pazienza, ma tanta proprio. La meraviglia è quell'attimo di pace che trovi in una vita che spesso ti dichiara guerra. La meraviglia c'è nelle sofferenze? Beh, sembrerebbe di sì, almeno dall'esperienza e dall'augurio di questo scrittore anonimo.